L'Università Cattolica ha attivato nel 1999, ha istituito il servizio per l'integrazione degli studenti con disabilità e DSA. Per noi è un fiore all'occhiello rispetto a questa tematica ed è riconosciuta a livello nazionale da tanti Atenei che fanno parte di questo network, attività che sono pensate per gli studenti iscritti a tutte le nostre cinque sedi universitarie che ormai quest'anno sono diventati più di 2000 studenti seguiti da questo servizio e che promuove la piena integrazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento all'interno dei percorsi universitari, mediante il supporto di personale tecnico amministrativo e di personale pedagogico specializzato che accompagnano gli studenti nell'esperienza universitaria, sostenendo il percorso sin dalle prime fasi di orientamento in tutta la propria carriera, quindi svolgimento delle lezioni e degli esami di profitto, fino alla laurea e nei primi passi relativi all'avviamento nel mondo del lavoro. Il coordinamento scientifico di questo servizio è affidato al professor Luigi D'Alonso che è ordinario in pedagogia speciale e è delegato dal rettore per tutte le iniziative che riguardano questo servizio. È un servizio molto complesso e articolato proprio perché deve accompagnare, si occupa dell'accompagnamento degli studenti a seconda delle varie situazioni che si presentano e con uno staff appunto specializzato di pedagogisti che accompagnano gli studenti in questa mediazione didattica e questa consulenza e fanno da raccordo tra lo studente e i docenti nell'ambito delle lezioni e degli esami di profitto. La struttura amministrativa è presente in tutte le sedi e si avvale anche di collaborazioni che possono riguardare per esempio i volontari del servizio civile piuttosto che cooperative che si occupano di trasporto e accompagnamento di coloro che ne dovessero avere bisogno. In questo senso l'università è leader nell'affrontare questa tematica perché nella propria offerta formativa ha diversi percorsi di studio che si occupano di queste tematiche a partire dalle lauree trennali, lauree magistrali, diversi master universitari, alla scuola di specializzazione per il sostegno, oltre a tutta una serie di iniziative, seminari, convenistica e formazione sia di docenti perché con i numeri che ne abbiamo di fatto tutti i docenti, i nostri docenti si occupano di queste tematiche e hanno studenti che hanno, che si avvalgono di questo servizio e personale tecnico e amministrativo perché tutti i servizi vengono erogati e ovviamente la formazione è fondamentale da questo punto di vista. L'inclusione in cattolica è una modalità che possiamo definire quotidiana e si concretizza con il coinvolgimento di studenti iscritti perché gli investimenti che l'università fa, le risorse che l'università mette in campo, sono anche risorse che mettono in campo gli studenti iscritti che con delle erogazioni liberali, questa è un'iniziativa a cui teniamo molto, possono contribuire. Ovviamente questo significa realizzare degli interventi infrastrutturali, quali per esempio la raggiungibilità di tutte le aule, di tutti gli spazi, quindi l'abbattimento delle barriere architettoniche o il posizionamento dei percorsi tattili e investimenti tecnologici, quindi gli strumenti compensativi innovativi che quotidianamente tutti gli anni accademici utilizziamo in funzione delle nuove necessità che dovessero emergere. Nell'epoca Covid-19 il servizio ovviamente si è ristrutturato, si è adeguato, remotizzando tutte queste attività di consulenza, tutti gli appuntamenti avvengono in presenza se possibile e avvengono da remoto e soprattutto la consulenza verso i docenti è stata estesa anche a queste nuove modalità di erogazione della didattica che evidentemente ci hanno portati a dover gestire queste situazioni a distanza.